Siamo qui al centro di Montefalco, alle mie spalle il Teatro Filippo Neri, tra pochi minuti la presentazione dell'ultima annata del Sagrantino, la 2014, e ovviamente ampio spazio dedicato all'annata 2011 e all'anteprima del Sagrantino protagonista di questa bellissima edizione. Sentiamo il parere dell'enologo Riccardo Cotarella. La 2014 sono quelle annate che ogni tanto capitano, che non rappresentano la massima espressione della benevolenza della natura. Però questo ci sta, devo dire che per certi versi distingue il vino perché dipende fortemente anche da un elemento non condizionabile che è il clima. E quindi poi dipende anche dall'uomo cercare di limitare i danni e di agevolare i benefici. Però il 2014 non rientra da un punto di vista climatico tra le più generose. La natura domenica è stata normale, il che normale non deve essere considerato un qualcosa di medio, qualcosa di senza infiamme e senza lote, assolutamente. Normale significa che i parametri climatici sono in quel range che dà la vita e la possibilità di esprimersi al meglio. Forse l'unico lato un pochettino da considerare non positivissimo è l'ultima parte della stagione, cioè fino a ottobre dove è avuto qualche pioggia, ma per il resto sicuramente tra le prime cinque stagioni dell'ultimo decennio. Il protagonista di queste due giornate è indubbiamente il Sagrantino, un vino così ricco di polifenoli. Guardi, io ho sempre considerato, no ho considerato, ho fatto delle riflessioni all'estero, che anche in Italia abbiamo un Sant'Emilia, come la Francia, è Montefalco, dove si respira vino, si vive di vino, ma essenzialmente perché c'è un vino irripetibile in qualunque altra parte del mondo. Quindi al di là buono, mi piace, non mi piace, che è molto relativo, venire a Montefalco, assaggiare un vino che lo identifica, una bandiera, che sia bene, benissimo, anzi ai piatti di questa piccola città, ammirare le sue bellezze, la sua pulizia, la sua nitidezza architettonica, beh, cosa c'è di meglio per un turista o per un nenne appassionato? Nulla. E quindi secondo me Montefalco merita, anzi andrebbe ancora più esaltata e comunicata queste sue caratteristiche. Così come il suo Sagrantino. È un vino particolare, una ricchezza esuberante, espressiva, grande marcatore di territorio, perché dal colore, anzi dal grappolo prima, nella sua morfologia, al colore del vino che ne deriva, al naso, alla bocca, alla sua possibilità di invecchiare, non dico per secoli, perché non so, nessuno ha avuto questa possibilità, ma è un vino unico.